Dopo l'inaugurazione ufficiale dedicata a tutti, oggi si è voluto fare un momento speciale per le scuole, quindi per i bambini di tutte le età, dalla scuola materna fino alla scuola media, che sono le scuole presenti sul nostro territorio. Villa Berceto offre anche a loro degli spazi per amare la lettura, per intrattenersi anche con la natura, perché fuori abbiamo un parco meraviglioso e penso che nella bella stagione sarà molto bello portarsi un libro nel prato o sotto un albero. Così come d'inverno sarà bello stare nei vari angoli studiati della villa con un buon libro in mano. Oggi è una giornata particolare perché non ci riesce molto frequentemente a essere tutti insieme, comprese le scuole di Ghiare. Ci sono delle letture animate, create sia per i bambini della scuola materna che per i bambini più grandi e come potete sentire nel sottofondo c'è un grande entusiasmo, perché i bambini amano la lettura, amano i libri con le figure, amano leggere e siamo noi adulti che a volte ci dimentichiamo di offrire un libro piuttosto che offrire un'altra cosa.